Il peggiore eronica visto fino ad oggi vanifica amaramente golle e prodezze del miglior Pandev di stagione, ma il calcio alle volte gioca i peggiori scherzi del destino. L'attaccante macedone, che scende in campo per via del forfai dell'ultimo minuto di Cavani, si travesse da Matador e con due prodezze sotto porta sembra in grado di regalare al Napoli un'altra notte da sogno. Le apparenze ingannano però, perché dopo un primo tempo dominato dagli azzurri che vanno al riposo in vantaggio 2-0, due clamorose sviste difensive regalano alla Juventus un pari che al 45esimo appariva lontana fantascienza. In mezzo c'è tanto Napoli, un Napoli come detto in grado di chiudere in netto vantaggio la prima frazione e in grado di andare ben oltre il fiscalissimo fischietto di tagliamento che costringe Amsic a ripetere il rigore del potenziale 1-0 e che lo Slovacco, dopo aver realizzato in prima battuta, spedisce in curva B al secondo tentativo. Poi il buio, Aronica va a vento e dopo tre minuti all'inizio delle riprese, concede un'autostrada a Pirlo che serve un solissimo matri per l'1-2. Pandev, ancora lui, rimette il Napoli a distanza di sicurezza, prima però di essere richiamato in panchina da Mazzarri che oramai già pregusta un finale a tinte azzurre. Gli rimane l'amaro in bocca però all'allenatore e all'attaccante che, impotente, deve assistere al crollo dei suoi compagni in mezzo al campo. La generosità di Aronica consente ad Stigarribia di fare 2-3, mentre Pepe fulmina De Santis per il definitivo pareggio al termine di un'azione caratterizzata da mille rimpalli e batti e ribatti. Il finale non è come quello di Bergamo, anche perché Cavani è in tribuna e non può spizzare il pallone dell'ultimo secondo. La Juve torna a casa con un punto pesantissimo, lasciandosi alle spalle il Napoli a nove lunghezze. Da ora e fino a Natale però la Mazzarri Band dovrà cambiare ritmo e se vuole continuare a sperare in un agognato posto Champions, dovrà trovare al più presto quella vittoria che oramai manca agli azzurri da tanto troppo tempo.